La mostra su Pablo Picasso allestita a Palazzo della Cornia di Castiglione del Lago è stata prorogata fino al 5 novembre. Nei primi quattro mesi di apertura l'esposizione ha attirato ben 15.000 visitatori. La mostra, rispetto all'apertura di aprile, è stata arricchita da cinque ulteriori dipinti, Barcellona Suite appartenenti alla prima produzione di Picasso. Cinque opere di grande pregio pubblicate nel 1966 dal Museo Picasso di Barcellona. I gestori del percorso museale hanno appunto arricchito con delle litografie ritoccate a mano del maestro Picasso la mostra e per questo appunto una proroga. L'intenzione è quella di far diventare il Palazzo Museale un contenitore di grandi eventi, di mostre legate a personaggi conosciuti a livello internazionale, oltre sicuramente a potenziare l'antiquarium con ulteriori pezzi raccolti e trovati sul nostro territorio. Libereremo entro l'anno appunto tutto il piano nobile mettendo a disposizione nuovi spazi per ospitare queste importanti offerte di concerto con le associazioni del territorio, l'archeoclub, ma anche il gestore che ha vinto la gara.